Buonasera a tutti, bentrovati! Buonasera Filippa, buona domenica sera. Buonasera Fabio, buonasera a tutti. Senti Filippa, è uscito per La nave di Teseo questo bellissimo, bellissimo libro, ancora una volta La nave di Teseo, devo dire, ha messo a punto un segno importante di uno dei più grandi registi italiani, Giuliano Montaldo, intitolato Un grande amore. Io non vedo l'ora di parlarvi, ma vorrei che fossi tu a introdurlo. Ah sì? Allora, ripeto quello che hai appena detto, un grande onore anche per me, per collegarci con il grande regista, perché esce il suo libro Un grande amore, è detto La nave di Teseo, ci colleghiamo con Giuliano Montaldo. Buonasera maestro, buonasera, eccolo qua, buonasera e grazie. Ciao grande capo. Come stai? Eh, ci provo. C'è le gambe un po' molle, ma insomma, ci provo. Dai, no, guarda, io non sai come sono contento e devo dire questo libro è bellissimo, bellissimo, è un saluto il nostro questa sera, ma voglio veramente fare di tutto perché il pubblico lo possa conoscere, leggere, per conoscere la bellissima storia d'amore fra te e il cinema, fra te e tua moglie e per conoscere quanto tu sei spiritoso, quante storie bellissime ci sono dentro. Tra l'altro, tu e tua moglie Vera avete festeggiato 47 anni di matrimonio, ma state insieme da 60. Sì, perché per dirmi di sì ci ha messo un po', dico la verità, però poi l'ha detto di sì. Senti, 60 anni quindi insieme, tanti, eh? Sì, sì, sì. E come si fa? E come si fa? Si fa per i... guarda, intanto io l'amo davvero molto, da sempre. Il primo colpo di scena è stato, quando l'ho incontratta per la prima volta, è stato, come si dice, un colpo di fulmine. Sì. Sì, un colpo di fulmine. Però anche la seconda volta è molto interessante, Giuliano, perché lei, quando l'hai vista la seconda volta, stava picchiando uno. Eh sì, stava picchiando, uno che doveva caricare, stava cambiando casa. Sì. E questo, a un certo punto, pensando che lei era sola, infatti in quella casa era sola, ha detto, ah signor, qua c'è troppo, non va bene, non mi deve dare più. E lei ha detto, lei ha visto tutto, quindi faccia... In quel momento siamo arrivati, io e suo fratello, e al piano eroso. Abbiamo continuato a sentire delle urla, era lui che faceva il pazzo. Lei ha detto, lei deve finire, no, io me ne vado. Allora lei ha fatto, l'abbiamo vista, una finta col sinistro, lui si è riparato, gli ha tirato un destro alla mascella e ha fatto crollare. Era un uomo enorme, una specie di... Allora, oltre con grande amore, ho trovato una grande fulmine. Giuliano Montaldo ha diretto grandi e indimenticabili film, come Sacco e Vanzetti, L'Agnese va a morire, Giordano Bruno, Tempo di uccidere, vabbè, insomma, tanti altri. L'ho sceneggiato Rai, Marco Polo, che è tutto... Eh, quella è stata una grande avventura. Eh sì, adesso poi... Con la mia... Con la mio collaboratore. Eh, sì, con tua moglie. Volevo dedicarti queste immagini con grande, grande affetto. A Giuliano Montaldo. Grazie. L'intolleranza è veramente un dolore. E devo dire che l'ho sempre sentita come un male sul quale riflettere. Cosa volete fare? Come lo portate? È malato! Non puoi lavorare! Conoscevo Sacco e Vanzetti come due nomi di vittime dell'intolleranza. E io mi faccio la pistola. Io voglio viaggiare, come mio padre. Lostoievski Fiodor, siete condannati alla pena capitale! Ce la farai? In che senso? A salvare l'azienda. Cavi speciale alla carriera per un grande maestro del cinema, Giuliano Montaldo. Grazie, Vera. Grazie. Giuliano Montaldo. Complimenti! Grazie, caro. Complimenti davvero, guarda. Tra l'altro, Sacco e Vanzetti, a parte che è stata una gigantesca operazione di verità, di restituzione di verità che tu hai fatto con quel film, infatti il governatore del Massachusetts, Dukakis, nel 1977, per il cinquantenario dell'esecuzione, innocenti di Sacco e Vanzetti, ti volle lì per aver contribuito alla loro riabilitazione. Sì, sono stati gli studenti di giurisprudenza dell'Università di Bosto che, visto il film, hanno cominciato a frugare tra tonnellate di carte di quel processo, durato sette anni, e poi hanno portato il loro giudizio, che era un delitto di Stato, a lui, che poi li ha riabilitati. È stato un momento bellissimo, un'emozione, devo dire la verità, mi sono emozionato fino alle lacrime, dico la verità. Senti, il cinema è a Roma, Roma è la città del cinema, una delle prime cose fondamentali per fare cinema a Roma è capire una cosa fondamentale sull'orario, tu dici nel libro. Cioè, quando si dice ci vediamo alle nove, non bisogna commettere un errore. Eh no, perché lì i tempi sono stretti, i giorni sono pochi, e bisogna essere puntuali tutti qua e al mondo. Però se a Roma ti dicono ci vediamo alle nove, che cosa vuol dire? A Roma, per strada? Sì. Non sul cinema? Eh. Vuol dire circa. Vuol dire circa. A Roma vuol dire circa. Tu dici che al primo appuntamento alle nove, ti sei presentato alle nove del mattino e hai aspettato dodici ore, perché si intendevano le nove di sera. Sì, la prima volta sì, ma era appena arrivato. E quello mi ha detto, ma che matto che ha capito al telefono. E' matto. Io ero lì a quello. Senti, in Sacre Vanzetti abbiamo parlato, Gian Maria Volontè, grande Gian Maria Volontè, che con te ha girato anche Giordano Bruno. Eh sì. Il filosofo che tutti sappiamo, fu arso vivo, no? Nella gara Campo dei Fiori, nella Roma del Seicento. E tu racconti che la sera prima del rogo del film, Gian Maria Volontè ha dormito con te tua moglie. No, si è presentato. Non so come ha fatto entrare in camera, forse non l'avevamo chiuso bene. Morale, a un certo punto, si apre la porta e fa come fai a dormire? Domani mi bruciano vivo, come fai a dormire? Dico, Gian Maria, uno dei due deve dormire, o io o te. E vabbè, allora dormo anch'io. Boh, si è buttato sul letto, Vera, si è spostata un po' la mia adorata, come si chiama? Grande amore. Sì. Io grande amore, Vera, si è spostata un po' più là e lui si è svegliato al mattino con noi. A proposito di rogo, una volta ti hanno salvato i pompieri del film da un rogo vero? Eh, perché lì è successa una tragedia, è esploso, per un'eserazione di carica, è esploso il teatro. Sì, stavi girando gli intoccabili. Intoccabili, il primo intoccabile con Cassavete, e Cassavete doveva mettere una bomba per far saltare una cassaforte. Invece è saltato il teatro. E si è saltato. Siamo scappati tutti e sono scappati per fortuna senza feriti. Senza feriti. C'era anche la mia compagna, Vera, fuori. E poi scappavano vicino, in un teatro accanto lì, giravano i due pompieri con Franca e Cassia. Con Franca e Ceccia. E c'erano delle compagni. Sì, certo. Erano vestiti da pompieri, le comparse, che sono scappate. Allora uscivano dal teatro e la gente diceva ma Scalzoni, ma dove t'andate a lavorare? Prendendoli i pompieri veri che scappavano dal rogo. Poi sono andati quelli veri. Meno male. Senti, ho detto prima di Marco Polo, un capolavoro, insomma, anche lì con tua moglie, l'amore per il cinema e per tua moglie coincidono in ogni parola, in ogni giorno della tua vita. e in ogni parola di questo libro. Non c'era lei. L'hai detto il finale del libro? Sì, certo, ma non diciamo niente però. Del finale non lo svegliamo. Però, questo lo posso dire, se non incontravo lei, oggi sarei uno impressionato dei scaricatori di Porto, perché avrei lasciato il cinema senza di lei. Te la posso presentare? Ma con grande piacere, con grande piacere, è un onore. La signora Vera Pescarolo, eccola qua. Dov'è? Arriva, 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 eccola qua, vicino a me. Vieni a sedersi, vicino a me. Eccola qua. Buongiorno. Buonasera, signora Vera. Buonasera, che bello vedervi insieme. Buonasera. Eccoci qua. Ci mette le cuffiette. Ma, che meraviglia questa storia d'amore così bella e questo marito così dolce, così innamorato. Che parole meravigliose e importanti. Grazie. Grazie, grazie. Anch'io sono innamorata di lui. C'è, non ne dubito, non ne dubito. Lui ha anche un po' timore, perché dopo il famoso pugno della prima volta, del trasloco. No, no. Una volta sola mi ha dato un pugno della spalla. Ah sì, eh? C'è ancora un segno. Non è vero. Senti, ma è un piacere schiacchierare con te. Grazie, grazie. È una gioia. Io vorrei chiacchierare, ma lui mi leva sempre la parola di bocca. Vabbè, ma allora... Io. Ma guarda un po'. Io ti levo la parola di bocca. Perché ti bacio. Ma lei, signore, è vero che lei ti fa Sampdoria, signora? Oh, madonna. Cosa ti prego? Non me ne frega niente. No, perché io e suo marito, siamo Sampdoria e Genoani, finiamo sempre su quello. Anche se ho scoperto come sei diventato Genoano. Ah, hai scoperto. Diciamo, non è stata una libera scelta. E se succedeva a un certo fazio, questo, che è successo a me, cosa diventava? È quello che era in quel momento. Perché lui era... Tuo zio ti aveva dimenticato allo stadio, praticamente, faceva molto freddo e ti hanno avvolto in una maglia del Genoa. e quindi si è diventato... E mi hanno regalato dalla società quella maglia che tu vedi lì. Sì. Ho scritto Montaldo 30. Ecco. Che è l'altra da mia nascita. Hai capito? Ho capito. Quindi tu ce l'hai una maglia con scritto Fazio e il tuo numero di data. Accetto la sfida. Accetto la sfida. la prossima volta te l'ha planto e dobbiamo fare mille altri collegamenti perché dobbiamo continuare a parlare. Ma oggi mettiamo tutte e due le maglie. Assolutamente. Signora Vera, ma è vero che suo marito in Mongolia quando giravate Marco Polo ha messo in dubbio che i cavalieri mongoli sapessero cavalcare e per poco rischiavate la vita? Mamma mia, cosa mi ricordi? No, no, no. Erano bravissimi i mongoli. Sì, ma lui ha detto che non sapevano cavalcare ha messo in dubbio la loro capacità. Sì, l'ho detto al comandante ho fatto un errore gravissimo perché ho fatto tradurre al comandante ma sono bravi i suoi cavalieri. Ha fatto spuntare dietro una collina dei cavalli senza nessuno sopra che correvano contro di Beccaro seduto sulla cassetta nel prato. Sono arrivati una polvere terribile sono usciti da sotto la pancia i cavalieri e la donna mia. Si erano nascosti sotto le pance del cavallo per non farsi vedere sembrare che fosse una mandria libera senza cavalieri. Mamma mia, ma io mi sono veramente poi una polvere alla fine guarda se il comandante non fosse stato con i suoi soldati da solo gli davo un cazzotto però era anche robusto era meglio lasciar pendere. No, i mongoli sono forti soprattutto le mongole Lei è l'amicissima delle mongole. Signora Vera senta ci raccontala quella cena bellissima con Andreotti quando lei si è divertita tantissimo. Si sarà divertito un po' meno lui. Sì, cosa ha combinato ce lo dica un po' perché Andreotti parlava in continuazione. Sì, non smetteva mai allora io a un certo punto gli ho detto com'è noioso perché non parla di un'altra cosa era Papa Sisto Papa Sisto e allora lui sì, lui mi ha detto e dai che parliamo? Io gli ho detto dei friulani e allora lui ha cominciato a parlare dei friulani che sono un po' della mia parte. Come nulla fosse è passato da Sisto IV Marco il friuli senza perfetto va bene Giuliano ancora una cosa io credo che sia bello ricordare insieme a te la collaborazione e l'amicizia con Ennio Morricone che è un incontro fondamentale ha fatto un record di 16 colonne sonore fatte insieme e devo dire che non l'ho mai lasciato perché ero un amico formidabile gli davo i copioni da leggere mi ha spiegato tante volte dove si deve mettere la musica nei film che se c'è un cararmato è inutile mettere la musica e insomma è stato un meraviglioso amico a cui ho voluto tanto bene e siamo stati molto legati insieme e non ho provato nessun altro. Io vorrei se me lo permetti salutarci con tua moglie e farle un'ultima considerazione pratica suo marito è geloso di lei o la gelosia è roba da provinciali? Oh no non 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 lo so non ho mai capito se è geloso oppure riesce in vero in grande autocontrollo. Beh però quella volta che ha messo quel vestito diciamo eccessivamente diciamo così eccessivamente esposto se dobbiamo raccontare queste cose non finiamo più perché ci sono tante le leggiamo nel libro allora eh è anche il prossimo io insomma penso che sia un bellissimo incontro questo un saluto ma spero che ce ne siano tanti altri se avete voglia vi disturbiamo ancora è un piacere un piacere sentirti caro grazie Giuliano grazie grazie di cuore l'ho conosciuto senza barba però sì e pensa che è involontaria anche il colore non lo scelgo io non si può più scegliere tu l'hai conosciuto con più capelli va bene signora Vera un abbraccio a lei signora Vera un abbraccio a te caro Giuliano un grande amore la nave di Teseo grazie di cuore grazie 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 a te ciao ciao